La Virtus Ragusa liquida il jarre e vola in semifinale. Alla fine di una gara vincente fatta di alti e bassi, di sorpassi e continuo in rimonte, il Quintetto Ibleu riesce a domare gli etnei in gara 2 dei quarti di finale play-off di Serie C Silver di basket e si aggiudica per 2-0 la sfida. 61-69 il punteggio finale. I ragusani, allenati da coach di Gregorio, hanno giocato con grinta, forza e cuore per raggiungere questo risultato, frutto di un sapiente gioco di squadra. Nei primi due quarti gli play cercano di contenere le incursioni avversarie, restando attaccati al team di Durso. Anche nel secondo periodo il jarre riesce a stare avanti, ma i ragusani cambiano registro e tallonano a breve distanza i padroni di casa. Il ritmo è lento, così come dimostrano i parziali, si va negli spogliatoi con il risultato di 26-24. Al ritorno dal riposo lungo Sorrentino e Compagni sembrano rinvigoriti e azione dopo azione si riportano avanti, mantenendo un discreto vantaggio. Il Quintetto in campo di coach di Gregorio diventa imprendibile e preciso sia in attacco ma soprattutto in difesa. Il jarre prova a ribaltare il risultato ma non riesce nell'intento. L'ultimo quarto è al cardiopalma. Supportati da un pubblico caloroso, i jarresi accelerano il passo e si avvicinano ai ragusani. Nell'ultima frazione gli etneri riescono anche ad operare il sorpasso, 53-49. A questo punto coach di Gregorio chiama il time-out per rischiarire le idee ai suoi e cambiare strategia. Alla ripresa delle ostilità la Virtus ricomincia la sua scalata riagganciando i padroni di casa grazie all'intesa tra Salafia, Andrea Sorrentino e Kessari, volando nel punteggio. Alla fine il nervosismo porta gli arbitri a fischiare falli ad entrambe le formazioni fino al tecnico nei confronti di Casiraghi quando manca un minuto alla fine. Ma i ragusani non perdono lucidità e vanno dritti alla meta. Di Natale riesce anche a mettere dentro una tripla che dà maggiore sicurezza alla squadra che arriva così alla vittoria finale. La Virtus adesso dovrà affrontare l'Orsa Barcellona, vincente sul Basket School Messina.